buongiorno ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi un click un semplice click su iscriviti ed attivate la campanellina perché a breve ci divertiremo a giorno ci sarà eh la prima live calciopoli perché è giusto informare le nuove generazioni ma è giusto anche fare un refresh ai signori che eh si riempono la bocca con la parola inter quando poi magari attenzione perché in caso parlare male dell'inter e poi scoprire chi lo sa che la tua squadra non poteva iscriversi al campionato come qualcuno ha detto eh potrebbe farti svegliare tutto sudato quindi attenzione perché io ragazzi voglio dire una cosa a parte qualche personaggio impresentabile su youtube che si spaccia per professionista gente sprovveduta gente non professionale ehm gente che non che non è arrivata a certi livelli e che a certi livelli non c'è mai arrivata gente che è stata radiata perché qui ci sono ci sono anche dei tifosi frustrati che si sentono rappresentati da un radiato o da o da qualche d'uno che su youtube dura fatica a leggere il giornale parlo in ambito Juventus qualcuno dura fatica a leggere il giornale perché poi cosa è successo su youtube no no non mi hanno chiesto di intervenire non me l'ha chiesto nessuno sia chiaro è una roba mia c'è c'è quel cialtrone che 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 si cambia i soliti due vestiti e pensa ad essere in televisione lì quello si pettina un in petrolio che dice le stronzate sull'inter quello che dice non è che che le ha beccate tutte non ne ha beccate una perché l'iter non è fallita zang fino a prova contraria nessuno ha mai detto che chi era stato arrestato non c'è nessuna dichiarazione sono tutte cose che non puoi dimostrare e che non sono accadute quindi te spari solo calzate diverso non è che le hai beccate tutte te 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 l'unica cosa che becchi purtroppo io sono contrario sono gli insulti e non solo ma te a breve beccherai anche gli insulti dai tifosi della tua squadra del cuore non solo da da quelli delle altre squadre quindi hanno reato questa nicchiettina su youtube di eh dei pensanti che sono lì al servizio di dei tifosi frustrati perché te pensa ai tifosi del milan a quelli della juve che vedono un inter stratosferia sul campo e lo hanno ammesso anche loro e e hanno capito che non hanno armi se non cercare di sporcarti comunque a parte quello lì che si cambia sempre i soldi vestiti uno grigio uno blu compratelo un vestito almeno se vuoi fa finta adesso in televisione no penso ti manchino soldi per comprarti un vestito e poi smettila di asciugarti i capelli con i cartoni della pizza ma a parte quello il signor Moncalvo che ragazzi non paragoniamo le mosche le zanzare non paragoniamo le zanzare capito non paragoniamo la zanzara con la balena qui parliamo di gente professionale di gente che è arrivata ad altissimi livelli con con gente che a malapena riesce a fare un video su youtube che non sa cos'è una plus valenza e dura fatica a parlare italiano mi sono spiegato il signor Moncalvo e questo lo dicono anche persone nel mondo Juventus a parte dobbiamo rispiegare che è Moncalvo e chi lo sta diffamando perché vedi Moncalvo è stato diffamato no da qualche cialtrone ma questi sono degli sprovveduti questi sono talmente ignoranti e capre che si autodenunciano perché lo sai cosa fanno cosa sono arrivati a fare questi ignoranti e devi essere di un livello ecco perché nella vita questi sono dei falliti perché quando c'è su youtube di fami un pubblico un pm come viola è un reato penale è una roba gravissima questi sono talmente stupidi che fanno nome e cognome e che diffamano un pm come viola pensate a che livelli siamo qui ma le parole di Moncalvo che non è ai livelli di questi cialtroni un cavo professionista altrimenti non sarebbe arrivato dove dove è arrivato in televisione tg5 scrittore di saggi con gli air della sera questo a malapena su topolino può scrivere ma nemmeno su topolino il signor Moncalvo riporta dati fattuali e riscontrabili e non dare seguito alle dichiarazioni di Gigi Moncalvo sarebbe più grave delle parole stesse delle sue parole bisogna dare seguito a quello che ha detto Gigi Moncalvo qualcuno mi sta chiedendo Giuseppe ma possiamo fare anche noi come identità gioventina certo lo potete fare mettete su una squadra di legali di avvocati e fatelo anche voi avete voglia di spendere un po' perché gli avvocati costano ve lo dico per esperienza ma perché ho amici ho tanti amici avvocati due due sono nei canali che sono erati ora uno non c'è più ma c'è sempre un legale lo so benissimo quanto costano i legali soprattutto quelli bravi costano mettete su tre amici 4 5 legali e fate gli esposti anche voi certo lo potete fare è un vostro diritto soprattutto quando si fanno gli esposti e non sei sicuro di quello che stai dicendo perché devi stare attento a quello che dici perché la devi buttare molto sul condizionale perché se non la butti sul condizionale e la butti sulle affermazioni poi dopo se non riesci a dimostrare quello di cui mi stai accusando è una diffamazione per quello io dico le parole di Moncalvo io sto parlando delle parole di Moncalvo non dire le dico io le parole di Moncalvo vanno approfondite perché nel passaggio della Covisuc che lui dice se quelli della Covisuc parlano sono cazzi amari non si può far finta di nulla davanti a queste parole quando Moncalvo dice il cdl della juve si dimette tutto non possono passare inosservate queste parole perché non le sta dicendo un cialtrone su youtube che diffama e che spara le cazzate le sta dicendo un professionista professionista serio ed apprezzato come Moncalvo poi è normale che al tifosotto da quattro soldi divene nervoso e l'offende ma quali sono dei decerebrati tifosotti da quattro soldi perché io voi lo sapete benissimo io mi sono sempre dissociato dalla gestione mezz'anni noi siamo stati ritirati da tantissimi interisti perché avevamo messo sul tavolo qual era la situazione finanziaria abbiamo messo sul tavolo la situazione finanziaria ma dalla prima live fino all'ultima abbiamo sempre detto che l'inter e lo abbiamo detto con dei legali con delle persone fanno dei lavori importanti abbiamo sempre detto che l'inter si era mossa in totale legalità ma perché queste persone hanno detto quelle cose perché sono sicure che l'inter si è mossa in totale legalità infatti vedrete che per la documentazione che abbiamo noi e questo l'ho detto anche a loro che l'esposto di identità bianconera non sortirà nessun effetto perché l'inter è a posto poi non sono cose morali sono state cose debito pagadebito debiti rinviati mille proroghe l'inter si è mossa in quello stagnettino di regole che erano state fatte appositamente per soprattutto il post covid e perché è possibile avere debiti i debiti fanno parte dell'economia tutti hanno i debiti altrimenti la gente mi farebbe a comprarsi le case non tutti hanno il cash per comprarsi le case le macchine cioè cosa fai se te compri una casa con il mutuo altri in mercato secondo le parole del fuori classe lì dell'amministratore delegato del bologna ma di oggi stiamo ragionando che la juve c'ha debiti in milano e pieno anche milano tutti hanno i debiti e zang il suo debito l'ha ripagato con l'inter c'è un bond ma il bond la legge ti permette di tenerlo lì ti permette anche attenzione di non pagarlo a un tre basta basta cambiare le garanzie il bond rimane ancora lì ma perché è la legge che te lo consente non ti piace sono cazzi tuoi si può fare il signor moncalvo gigi che ora cercherò di invitarlo tramite una conoscenza anche in live se lo volete sapere come mi fa notare pierluigi che saluto lo sono anche segnato altrimenti me lo scordo sempre ciao pierluigi linguaggio del corpo tramite quei scialtroni che diffamano un pm su youtube che quelli a valapena riescono a fare dei video su youtube altro ma vogliamo parlare di informazione ma informazione di che il signor moncalvo se te lo osservi quando dice quelle cose gravissime a cui non si può far finta di nulla che poi aveva già ridetto tra l'altro quindi pensate se il moncalvo non sa cosa mai incontro moncalvo non è un cialtroni come quello lì che ti fa monpn su youtube cioè moncalvo ce l'hai neuroni connessi non è un disconnesso come quei tre quattro ignoranti che sparlano sull'inter signor moncalvo quando dice che se parla la coviso che è un casino quando dice si è dimesso tutto il cda quando dice cosa ha dato elkan a gravina quando dice che gravina ha salvato la juve perché non si poteva iscrivere è analitico lucido particolareggiato attento a quello che dice si vede che è attento è concentrato quindi ci sono troppe cose vanno contro l'essere una rivalza o una cattiveria verso elkan perché secondo qualcuno a lui elkan non piace perché lui è amico di agnelli quindi concludo il video dicendovi se vi fa piacere iscrivetevi al canale ma non dare seguito le parole di gigi moncalvo sarebbe più sarebbe più grave delle stesse ciao inter grazie a tutti grazie a tutti